Va bene, allora, oggi spero che siate belli riposati, svegli, perché iniziamo forse l'argomento più ostico di tutto il corso, quindi dimenticatevi che è cambiata l'ora, che c'è stato il weekend, diciamo è l'una del lunedì, quindi si può essere svegli. Ci staremo un paio di settimane su questo argomento qua, che è la ricorsione, che effettivamente è quello che ci permetterà di fare un salto in avanti del tipo di algoritmi che realizziamo, che non saranno solamente algoritmi, io li chiamo di tipo anagrafico, cioè finora abbiamo visto dei programmi in cui hai dei dati, li prendi, li salvi, li modifichi, li cancelli, li aggiungi, la noia ci assale essenzialmente nel fare queste cose, perché alla fine c'è molto lavoro di gestione dati, ma nulla di intelligente da fare. Adesso cominciamo a chiederci come possiamo non solamente gestire dei dati, ma permettere agli algoritmi che realizziamo di trovare delle soluzioni, trovare delle soluzioni più possibili e ottime rispetto a certi problemi. Qualcosa di questi concetti ovviamente li avete già dal corso di ricerca operativa, però qua chiaramente ci focalizziamo sull'aspetto legato alla programmazione. E quindi c'è questo tema della ricorsione che è l'implementazione, attraverso un linguaggio di programmazione, di una strategia di ricerca e soluzione dei problemi, la cosiddetta divide-timpera. Questa tecnica della ricorsione, che poi noi impareremo come gestire a livello di linguaggio e come impostare, parte da un'idea tutto sommato abbastanza semplice, che se devo risolvere un problema troppo complesso, troppo grande, la cui dimensione è troppo grande, oppure i cui vincoli sono troppo elevati, per cui diventa complicato trovare semplicemente una soluzione, una delle tecniche è cercare un metodo per ridurre il problema, ridurre la dimensione del problema. Un problema troppo grande lo divido in due problemi più piccoli, con la speranza che il problema più piccolo sia più facile da risolvere di un problema più grande. E se non mi basta ancora, questo problema più piccolo lo dividerò a sua volta, ulteriormente in altre due parti e così via. Quindi, tutte le volte che sono di fronte a un problema che da solo non riesco a risolvere, cerco di capire se riesco a trasformarlo in una serie, di una collezione di problemi più semplici. Ciascuno di questi problemi più semplici probabilmente andrà risolto. E una volta che ho le soluzioni di questi problemi più semplici, in qualche modo dovrò riuscire a dedurre dalle soluzioni dei singoli problemi semplici, qual era la soluzione globale del problema grande. Questa è l'idea. Cos'è questo? Mi dà un metodo per esplorare sistematicamente tutte le alternative possibili. Io potrei decidere di capire magari tutti i modi possibili in cui potete sedervi in questa stanza. quanti sono, quali sono, qual è quello migliore, eccetera, eccetera. Ok, ma prima di poter decidere qual è quello migliore, devo riuscire a almeno elencare tutte le possibilità. Poi magari non tutte, alcune vedremo che sono inutili, ma devo avere un meccanismo per elencarle sistematicamente. Però devo avere un metodo operativo per poterlo fare. Allora, se voi avete fatto, diciamo, un po' di calcolo di probabilità nei corsi di matematica, mi dite, ah sì, perché collocare, non so quanti siete, 70 persone in 120 posti, si fa col coefficiente binomiale 70 su 120, insomma, c'è il conticino da fare. E ti dà un numero, ti dice quanti sono le posizioni possibili in cui le persone si possono sedere in questa stanza. Va bene. Dopo che ho il numero, però, cosa me ne faccio? Qual è la condizione migliore? Sulla base, che non so, di quanto più facilmente riuscite a vedere il proiettore, oppure se siete vicini ai vostri amici, oppure inventate un criterio che vi permette di dire che una soluzione è migliore di un'altra. Allora, io so che ci sono, non so, miliardi di soluzioni, so dirti quando una soluzione è migliore di un'altra, ma poi come faccio a trovare qual è quella migliore? Beh, un modo molto brutale è provarle tutte. Ma anche solo provarle tutte significa essere capaci a generarle tutte, elencarle. Allora, la ricorsione ci dà un metodo semplice per poter elencare sistematicamente un insieme anche molto ampio di soluzioni. Ad esempio, in questo caso la ricorsione direbbe, beh, se devi sistemare 70 persone in un'aula, cominci a risolvere due problemi. Il primo problema è sistema una persona, l'altro problema è sistema nel 69. Un po' sbilanciati. Però quello di sistemare una persona è facile, la faccio sedere in tutte le serie possibili, immaginabili, libere. Quello da 69 è ancora troppo complicato, a sua volta lo spezzerò in due sottoproblemi e così via. Questo è un po' il ragionamento che stiamo cercando di fare. Cercando di affrontare problemi che da soli non sapremo da che parte iniziarle, decidiamo un lato da cui iniziare e abbiamo un meccanismo di programmazione che ci permette di gestirle. Poi c'è un altro motivo per cui si può usare la ricorsione, che è quello della gestione di strutture dati che siano intrinsecamente ricorsive. Ma quando parleremo di grafi lo capiremo meglio. Quindi, cosa vuol dire ricorsione? Che cos'è? Quando si parla di ricorsione, ogni qualvolta io ho una funzione o un metodo di una classe che richiama se stessa. Cioè all'interno del corpo del metodo c'è una chiamata al metodo stesso. O direttamente, o indirettamente, cioè il metodo richiama un altro metodo, che richiama un altro, che però alla fine richiama il primo. Ok? Un termine, una funzione, un risultato che è definito in termini di se stesso. come questa immagine qua, che noi vediamo sempre all'inizio delle lezioni, dove c'è lo schermo che contiene lo schermo, che contiene lo schermo e così via. Allora, queste, diciamo così, immagini che ci danno l'idea di una successione ricorsiva di elementi, purtroppo ci danno l'idea che sia una sequenza infinita di elementi. E noi, dovendo programmare qualche cosa che alla fine mi dà un risultato, non dovrebbe essere infinito, dovrebbe finire dopo un certo tempo e darmi il risultato. Quindi dovremmo anche riuscire a gestire questo. Non basta dire una funzione che richiama se stessa, perché altrimenti abbiamo creato un bel ciclo infinito di chiamate. Funzione che richiama se stessa, che richiama se stessa, che richiama se stessa, che richiama se stessa, andiamo avanti per 12 milioni di anni, ma non arriviamo da nessuna parte. Quindi il principio base è il meccanismo che permette una funzione di richiamare se stessa. Poi questo meccanismo, molto potente, molto, a volte, selvaggio, va gestito, va domato. E noi dobbiamo imparare a domarlo. Questo speriamo che non sia vero, perché altrimenti non ne usciamo da questa lezione. Allora, il primo esempio che si fa spesso, ma più che altro per ribadire il concetto, è quello del calcolo della fattoriale di una funzione. Dico che si fa come esempio, perché nessuno, sanno di mente, implementerebbe mai il calcolo del fattoriale usando questo metodo, quando basta semplicemente moltiplicare i numeri da 1 a n, con un ciclo. Però, se tu vai a vedere sui libri di matematica, i matematici piacciono queste cosette qua, in cui ti dice che il fattoriale di un numero è definito per definizione come il numero stesso moltiplicato il fattoriale del numero precedente, del predecessore di quel numero. Quindi questa è una definizione ricorsiva perché mi definisce fattoriale in termini di fattoriale. Quindi se so calcolare il fattoriale, lato destro, allora so calcolare il fattoriale del lato sinistro. Cos'è che mi fa dire che non è un circolo vizioso questo? È che sul lato destro il fattoriale che devo calcolare è di un ordine inferiore rispetto a quello del lato sinistro. Quindi in qualche modo ho espresso un problema in termini di se stesso, ma più facile. In questo caso ho più facile di 1, di un'unità da n, sono poi sceso a n-1. Ma a questo punto mi dà già un'idea che se n non lo so risolvere, o meglio, saprei risolvere n se sapessi risolvere n-1, allora posso dire che saprei risolvere n-1 se sapessi risolvere n-2. E saprei risolvere n-2 se sapessi risolvere n-3, e così via. Per fortuna i matematici si sono ricordati di mettere anche un tappo a questa progressione, dicendo che se per caso arrivi a 0, 0 fattoriale fa 1, e non devi andarti a chiedere, perché sennò sarebbe un po' antipatico, fare 0 moltiplicato il fattoriale di meno 1. Violerebbe una mezza dozzina di regole aritmetiche. Quindi ho bisogno di due cose. Una regola di ricorrenza, qualcosa che mi esprime un problema in termini dello stesso problema più piccolo. e una condizione di terminazione. Qualcosa che mi dica quando è che il problema è abbastanza piccolo da poter essere risolto semplicemente guardandolo in faccia. Queste cose le posso codificare. Io potrei benissimo creare un metodo che si chiama calcolo del fattoriale ricorsivo, che riceve un numero n, che può fare due cose. Se il problema che mi hanno dato a calcolare è semplice, cioè sono già nel caso semplice, n uguale a 0, mi hanno chiesto di calcolare il fattoriale di 0, vabbè, il risultato è 1. Negli altri casi, calcolo il fattoriale di n meno 1, che qualcun altro sa calcolare, poi che questo qualcun altro sia di nuovo io, non mi interessa. E poi una volta che ho il risultato del fattoriale di n meno 1, lo moltiplico per n e restituisco il risultato. L'unica cosa strana è che questa funzione fattoriale ricorsivo che io chiamo qua dentro nell'implementazione del mio metodo è di nuovo il metodo stesso. È un'altra istanza, un'altra invocazione del metodo stesso, il quale non sa nulla di me, lui si vede, diciamo così, ricevere il numero n meno 1 e dice, allora questo n meno 1 qua è uguale a 0 se si ritorna 1, altrimenti chiamo un'altra funzione, che poi sono sempre io, fa lo stesso ma non lo so, chiamo un'altra funzione che mi calcola il n meno 2, il fattoriale del n meno 2 e va avanti così. Quindi abbiamo una funzione che richiama la stessa funzione, un'altra copia della stessa funzione, un'altra istanza della stessa funzione, che avrà dei parametri attuali diversi, cioè il valore di n nella prima, seconda, terza, quarta invocazione annidata sono diversi, cambiano, che avrà il valore delle variabili locali diverse, quindi il risalte della prima funzione è diversa da quella della seconda, è diversa da quella della terza e così via, quindi ogni funzione quando viene chiamata ha il suo portafoglio di variabili su cui lavorare, i parametri, i valori attuali, le variabili locali, il risultato ritornato, sono tutti valori distinti per queste funzioni, per quello che le chiamo diverse istanze di questa funzione. ovviamente se queste funzioni accedono a dei dati globali, a delle strutture dati condivise, vabbè, sarà la stessa struttura dati per tutti, ma se uso dei variabili locali o dei parametri, questi sono privati di ogni singola invocazione della funzione, quindi non è la stessa funzione, è una copia, è come se fosse una copia della stessa funzione che però viene chiamata con parametri diversi. O noi siamo abituati a chiamare tante volte una funzione con parametri diversi, semplicemente fino ad oggi la prima la chiamavamo una volta, poi quando ritornavo la potevamo chiamare una seconda volta, poi quando ritornavo la potevamo chiamare una terza volta. La chiamavamo molte volte in momenti diversi, in modo disgiunto. Invece adesso la chiamiamo la seconda volta prima che la prima chiamata sia finita. Sono ancora dentro la parentesi graffa della prima chiamata che ho già fatto la seconda chiamata. Questa cosa particolarmente semplice però mi permette come dicevo prima un'esplosione nella esecuzione del codice. Vedremo che è molto facile da questo avere poche righe di codici che però generano una quantità enorme di casistiche. Quindi questo approccio adesso come dicevo nessuno sanudemente lo userebbe per calcolare il fattoriale ma lo possiamo usare per risolvere altri tipi di problemi. problemi in cui riusciamo a riformularli sotto forma di dividi e timpera cioè sotto forma di dato un problema si può decomporre in sotto problemi più piccoli che siano più piccoli o più semplici e dello stesso tipo. Perché se lo scompongo in due problemi diversi non riesco a ripetere il meccanismo di semplificazione una seconda volta o una terza volta se mi cambia il tipo di problema ogni volta. e poi cosa che spesso si dimentica trovare un metodo per ricombinare le soluzioni parziali dei sotto problemi risolti nella soluzione globale. Mi servono questi due passi dividi e conquista. Dopo che ho diviso e conquistato i singoli sotto problemi metto insieme e costruisco l'impero diceva Giulio Cesare. quindi dal punto di vista algoritmico è una cosa di questo genere do un problema P lo divido in un certo insieme possono essere due possono essere tre possono essere quattro può essere uno solo come nel caso del fattoriale l'importante è che siano più semplici e siano dello stesso problema poi li risolvo e unisco le soluzioni quindi devo essere capace a dividerli e devo essere capace a riunire le soluzioni il problema e unire la soluzione sono due cose diverse questo funziona se l'operazione di divisione e di riunione divisione del problema e riunione della soluzione siano operazioni relativamente veloci da implementare perché se devo fare un algoritmo di ottimizzazione anche per capire come dividerlo comincia a diventare pesante sto cercando in qualche modo poi lo vedremo sugli esempi di ribaltare la complessità di risolvere un problema sulla sistematicità con cui lo vado a decomporre ciò di cui ci stupiremo quando vedremo i primi programmi ricorsivi è tutto qui vedremo del codice in cui non sembra che da nessuna parte si stia risolvendo il problema ma in realtà lo si sta facendo attraverso questo meccanismo di smontare e rimontare e quindi ci permette di costruire in modo sistematico come dicevo prima delle esplorazioni di spazi possibili di soluzioni è ad esempio molto facile generare tutti dei percorsi possibili tutte le permutazioni possibili di elementi tutte le combinazioni possibili di elementi immaginate tutto il calcolo combinatorio come si fa non solamente a sapere come dicevo prima come dicevo prima l'esempio delle persone in aula non solamente quante sono le possibilità ma quali sono un esempio che faremo la prossima volta ad esempio avete presente il giochino del quadrato magico in cui devi disporre dei numeri in un quadrato in modo che la somma dei numeri sulle righe sulle colonne sia uguale ma questo è un problema che matematicamente è un problema di permutazione io ho i numeri del quadrato 3 per 3 da 1 a 9 sono sempre loro devo semplicemente scambiare di posto trovare la permutazione il riordinamento di questi numeri corretto e quindi se io riuscissi ad avere un algoritmo che mi genera tutte le permutazioni di numeri da 1 a 10 che poi sono 10 fattoriale che è un numeraccio di circa un milione e mezzo se non ricordo male ma un milione e mezzo trovo che sia per un computer di oggi le generano tutte e poi vedo quali hanno la somma dei valori corretti o tra l'altro permutazioni mi servono per fare gli anagrammi se devo trovare gli anagrammi delle parole devo capire come poter permutare le lettere al loro interno quindi alla fine molti problemi di ricerca trovami la soluzione che si riconduce a trovami tutti i possibili modi in cui posso presentarti la soluzione e poi alla fine vediamo qual è quello migliore a livello di codice a livello di pseudo pseudo codice abbiamo una cosa di questo genere abbiamo un metodo risolvi per dire ipotetico che riceve come parametro un problema e restituisce una soluzione questo metodo risolvi che cosa fa? beh innanzitutto dovrà avere un meccanismo per dividere un problema in un elenco di sottoproblemi non è detto che ci sia esplicitamente questa lista questo è un passo concettuale poi a seconda dei casi ce l'ho effettivamente la lista oppure la costruisco solamente man mano che mi serve ne costruisco gli elementi man mano che mi servono però concettualmente la prima cosa che devo fare quando ho un problema devo dividerlo in sottoproblemi e poi iterando per ciascun sottoproblema quindi ho uno, due, tre, quattro sottoproblemi per ciascuno di questi considero il sottoproblema e chiamo la procedura solve per risolverlo la quale mi darà una soluzione parziale poi voi mi dite ma attenzione che solve sono di nuovo io quindi a loro volta questi problemi vengono dividi sì sì va bene verranno dividi ma non ci pensiamo adesso adesso siamo dal lato del chiamante ho chiamato solve a cui passa un problema e la solve mi ha promesso che uno sa risolvere poiché da sola non lo sappia deve a sua volta chiedere una solve più piccola di lei sarà un suo problema il mio problema adesso è che ho dato un problema l'ho diviso e ho chiamato una funzione che è capace di risolvere i problemi più piccoli punto come sia capace non mi interessa se riesce questa funzione a risolvere questi sottoproblemi e quindi averle sotto soluzioni il mio lavoro sarà quello di ricombinare le sottosoluzioni avendo una soluzione complessiva o alla fine se sto cercando di massimizzare una certa cosa questo ricombinare significa semplicemente fare il max dei numeri che ho ricevuto vediamo qual è quello migliore molto spesso c'è una funzione di costo da massimizzare e quindi ho ritornato a queste soluzioni quindi io faccio un pezzo solo faccio la mia parte non devo pensare di risolvere tutto in un colpo solo faccio un piccolo passettino di dividere e ricombinare poi chiederò agli altri sugli n sottoproblemi che ho creato di fare ciascuno la propria parte e le altre funzioni che in realtà sono di nuovo io anzi altre copie di me stesso faranno lo stesso lavoro alla fine non c'è nessuno che lo risolve davvero il problema tutti lo dividono dicendo vabbè questo qui è abbastanza piccolo pensaci tu che sono sempre io e allora quando mi è riuscito il problema più piccolo dico vabbè sì piccolo ma è ancora troppo grosso allora lo divido a sua volta pensaci tu che sono più piccoli ancora fino a quando beh a un certo punto mi devo fermare a un certo punto mi devo fermare perché altrimenti l'algoritmo andrà avanti all'infinito ma mi fermo per forza perché se qui siamo in problemi discreti in cui abbiamo dei dati da elaborare non è che posso dividere all'infinito i problemi siete in 70 persone da sedere divido a metà sono 35 divido a metà sono quanto fa 18 divido a metà sono 9 divido a metà un po' di volte poi arriva 1 e non è che lo divido più questo non mi pongo più il problema di dover sedere il braccio sinistro e il braccio destro della stessa persona no sono allo stesso posto quindi a quel punto il problema diventa abbastanza semplice da poter essere risolto direttamente quindi quando io ho diviso semplificato un numero sufficiente di volte un problema può capitare che il problema si risolva semplicemente guardandolo tipo 0 fattoriale uguale a 1 ah ecco il problema lì la soluzione la so già perché è già nota mi sono ricondotto un problema abbastanza semplice la cui soluzione sia nota banale oppure si possa risolvere facilmente con un metodo che non richiede la ricorsione quindi che ne so se arrivo a fare la permutazione di tre elementi e so che ho sei soluzioni potrei farle direttamente nel codice caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 non c'è bisogno di fare una cosa complicata allora in questo caso vuol dire che nella mia ricorsione prima di fare il passo ricorsivo quel pezzo giallo è quello che abbiamo visto prima prima di fare la parte ricorsiva devo sempre controllare se il problema che mi hanno dato a risolvere sia già abbastanza semplice banale da poter essere risolto direttamente in modo banale se sì lo devo risolvere direttamente se no vuol dire che è troppo grosso e quindi metto in atto il meccanismo di divisione e poi mi darà la soluzione questo dal punto di vista diciamo così dell'impostazione generale teorica adesso lasciamo perdere questi numerini qua che li riprendiamo più avanti una par un caso speciale degli algoritmi ricorsivi dicevamo serve per esplorare tante possibili soluzioni allora qui anziché cerca l'ho chiamata esplora e però alla fine il concetto è lo stesso vado a vedere se devo esplorare una serie di percorsi mi chiedo ogni volta qual è il prossimo passo che posso fare quali sono i prossimi passi possibili uno due tre ok proviamo a fare l'uno e vediamo cosa succede vediamo cosa succede vuol dire di nuovo esplorare a partire dalla posizione che ho raggiunto dopo che ho fatto il passo uno ricorsivamente ma quello lo lasciamo la procedura sotto poi proviamo a fare il passo due e vediamo cosa succede poi proviamo a fare il passo tre e vediamo che cosa succede allora bisogna poi solo fare attenzione quando si fanno questi vari tentativi che ogni volta che faccio un tentativo faccio il passo uno poi vedo cosa succede chiamata ricorsiva poi torno indietro e faccio il passo due e vedo cosa succede non devo fare l'errore e dire faccio il passo uno e poi faccio il passo due dalla posizione infatti vado a sbattere dalla posizione in cui ero arrivato prima ok quando faccio vari tentativi perché di tentativi si tratta nessuno sa qual è il passo giusto da fare ne provo a fare uno e poi chiedo alla funzione ricorsiva dimmi cosa c'è dopo allora devo sempre ricordarmi di fare un passo di backtracking si chiama in gergo cioè tornare indietro faccio un tentativo vedo le sue conseguenze torno indietro al caso precedente faccio il secondo tentativo possibile vedo che cosa succede torno indietro dove vedo che cosa succede significa a sua volta quando sono arrivato lì vedo quali sono le alternative possibili e proverò la prima proverò la seconda proverò la terza proverò la quarta lo schema mentale è sempre lo stesso si applica semplicemente a problemi che man mano che vado avanti hanno già una parte già risolta una parte già esplorata perché sono già dei passi che ho fatto e i passi che rimangono da fare ad ogni livello sono sempre di meno però qui bisogna ovviamente andare a qualche esempio concreto allora per fare la vediamo in parallelo questi suggerimenti rispetto all'esercizio allora per farvi un esempio relativamente semplice su cui ragionare ho scelto questo possibile programmino che trovate già parzialmente impostato su Github quindi se ieri sera l'ho già linkato questo repository TDP219 tutto calcio adesso non so se nella vostra epoca esiste ancora il tutto calcio ci sono tanti altri metodi di scommesse però si trattava perché scommetteva ogni domenica di compilare una non è stato facile trovare neanche queste immagini in giro una schedina cartacea su cui scommettevi su quale fossero i risultati delle partite di calcio una volta si giocava la domenica quindi della domenica allora cosa succedeva che quando tu potevi avere quattro tentativi uno, due, tre, quattro consideriamolo uno solo un tentativo significava prevedere quale risultato ci fosse per ciascuna delle partite quale risultato sarebbe risultato di ciascuna delle partite ma la cosa carina è che tu potevi indicare che tra Bari Lecce non voglio questo è un derby della Puglia non mettiamoci prendiamone un'altra sono tutte partite abbastanza vabbè diciamo Bari Lecce potevi dire che vinceva il Bari annerendo la casella 1 oppure che vinceva il Lecce annerendo la casella 2 oppure x pareggio oppure potevi annerire più di una casella contemporaneamente questo significa che se io annerisco 1x significa che sto pronosticando che o vince o pareggia quindi in realtà in un unico pronostico sto prevedendo due possibili soluzioni è la stessa cosa se Bologna e Fiorentina scrivo 1 2 vuol dire che prevedo che o vinca o perda Bologna però combinato con un x di sopra mi fa 4 casi possibili 1 x 1 2 quindi ho tutti i 4 casi possibili e così via ad ogni riga di questa schedina posso prevedere o un risultato secco 1 2 oppure un risultato multiplo che può essere doppio 1 2 1 x x 2 basta oppure un risultato triplo 1 x 2 che vuol dire non lo so questa partita quindi le butto tutte e tre ovviamente il costo della schedina era proporzionale ogni volta che metto una tripla 1 x 2 il costo di giocare la schedina triplica perché in realtà sto giocando tre colonne diverse sto facendo tre previsioni diverse sto moltiplicando per tre i numeri di previsioni che faccio infatti vincere è facilissimo basta scrivere 1 x 2 a tutto paghi 3 elevato a 13 il costo della singola colonna vinci sicuramente vinci sicuramente meno di quanto hai pagato ma va bene tutti i giochi di scommesse sono così c'è sempre un modo sicuro di vincere perdendo più di quello che hai investito ok allora quello che vogliamo fare noi è supponiamo di avere un pronostico di qualcuno che ha compilato una schedina e proviamo a generare tutte le possibili soluzioni che sono implicate che sono sottintese in quella schedina quindi qui faccio un esempio più piccolo su github supponiamo che una persona abbia giocato una schedina così 1 x x 2 con 3 partite sole anziché 13 allora questo significa che corrisponde alla schedina 1 x x che è qua oppure 1 x x che è la seconda colonna oppure 1 1 2 oppure 1 x 2 quindi da questo pronostico genero 4 possibili soluzioni allora cerchiamo di farlo immaginiamo come poterlo fare in generale quindi io ho una schedina con 3 partite 4 x 5 13 ciascuna delle quali ha un pronostico secco o doppio o triplo e io devo generare tutte le possibili combinazioni se io sapessi già che le soluzioni sono 4 perché una singola e due doppie ma bastano due cicli for annidati due cicli for uno dentro l'altro mi danno le 4 combinazioni il problema è che io a priori non so né quante profonda la schedina cioè quante righe avrà né quanti alternative ci sono per ciascuna riga se nel caso la schedina è un problema più semplice perché al massimo sono 3 alternative da provare ma in teoria su problemi più generali non è detto di conoscerlo e quindi l'ipote di fare tanti cicli di for annidati per provare tutte le combinazioni non funziona in generale perché non so neanche quanti cicli fare perché non so quante lunghe la schedina in generale e poi scopriremo che non è neanche un metodo particolarmente furbo perché non ti permette di fermarti prima quando ti accorgi che la soluzione non porta nulla di buono ma sulla schedina questo non si verifica quindi non ne parliamo ancora adesso allora come facciamo a implementarla dobbiamo ragionare per livelli nella ricorsione un problema diciamo prima lo divido e poi lo ricombino ok questa operazione di dividere e ricombinare viene ripetuta tante volte ogni volta che viene richiamata un livello successivo della ricorsione quindi io ho questa cascata di chiamate ricorsive una sotto l'altra ciascuna delle quali dicevamo prima intuitivamente deve essere più semplice di affrontare un problema più semplice di quello precedente allora quantifichiamola questa cosa che cos'è che risolve ogni livello della ricorsione devo avere una variabile un valore un campo un passaggio eccetera che viene risolto a ciascun livello quindi uno può dire al primo livello della ricorsione risolvo la prima riga della schedina avere risolto la prima riga della schedina in questo caso è un uno quindi si risolve banalmente non significa aver risolto tutta la schedina perché poi devo vedere tutte le combinazioni possibili sulla seconda terza quarta riga e così via però io ho fatto un pezzo poi delego a qualcun altro di fare il passo successivo il passo successivo sarà il secondo livello della ricorsione si occupa della seconda riga della schedina quindi noi abbiamo in questo caso avremo tre chiamate ricorsive la prima chiamata ricorsiva fa tutti i tentativi possibili permessi dalla prima riga previsti dalla prima riga della schedina per ciascuno di questi poi dirà al secondo livello della ricorsione pensaci tu da qui in poi il secondo livello della ricorsione si vede già la prima riga già fatta non ci deve pensare pensa alle alternative possibili sulla seconda riga e non pensa alla terza perché non è problema suo quando ha piazzato un valore possibile tra quelli leciti quelli corretti eccetera eccetera sulla seconda riga chiamerà ricorsivamente un'altra funzione che di nuovo sempre lei che pensare questa volta alla terza riga la prima riga non ci pensa la seconda non ci pensa perché sono sopra ci ha già pensato qualcun altro e ciò che viene dopo la terza riga non ci pensa pensa solamente alla terza riga ciò che viene dopo la terza riga cosa è che viene dopo la terza riga niente ma se io devo pensare alla terza riga non devo pensare neanche a cosa viene dopo penso alla terza riga e basta poi chiamerò una funzione e dirò senti tu pensaci tocca a te risolvere ciò che c'è dopo la terza riga questa altra funzione guarda vede che non c'è niente dicevo facile ho già fatto non ho niente da fare mi hanno dato un problema di dimensione zero e quindi la soluzione è ovvia non devo far niente quindi dobbiamo riuscire a parcializzare il nostro ragionamento chiedendoci ogni volta diciamo dividendo quello che è inventandoci come impostare questo meccanismo di corsione come prima cosa affettando il problema in una serie di livelli successivi che ne so se dovessi risolvere un problema su quest'aula io potrei dire che il primo livello è separare sinistra e destra poi il secondo livello potrebbe essere prime file e seconde file poi il terzo livello potrebbe essere colonne pari colonne dispari ci sono tanti modi diversi in realtà perché potrei dire che il primo livello è davanti e dietro e il secondo sono sinistra e destra dipende come voglio prendere un problema che so che è grande e dividerlo in tanti pezzettini affrontando un pezzo per volta nel caso della schedina che è un problema la formazione del problema è lineare è una certa serie di caselle una dopo l'altra tanto vale dire prendo la prima prendo la seconda prendo la terza sarei potuto partire dal fondo avrei potuto dire la prima metà della schedina la seconda metà della schedina cioè ci sono tanti modi possibili noi la parte la cosa più difficile solitamente è proprio di immaginarsi come fare ad affrontare questo problema per gradi e quindi che cosa mi rappresenta un livello? nel nostro caso un livello mi rappresenta una partita in più che ho posizionato e risolvere un livello cosa significa? significa avere una soluzione parziale non una soluzione totale la soluzione parziale sarà una soluzione in cui come dicevamo le prime due partite già risolte ma la terza non è ancora affrontata mentre invece quando le ho tutte e tre le partite avrò una soluzione totale da cui non vado più avanti perché ho già tutto quindi dobbiamo immaginarci il problema che si risolve in modo incrementale poco per volta e se c'è chiaro come costruire incrementalmente un problema in realtà allora il nostro lavoro è semplicemente quello di dire poiché ho una soluzione parziale di un certo livello i come faccio dalla soluzione parziale del livello i a costruire tutte le possibili soluzioni parziali del livello i più uno o un metodo generativo per costruire soluzioni mi è andato un problema e dico non so nulla ok il primo passo cominciamo a mettere a valutare quali sono le alternative possibili per il livello uno poi per ciascuna di queste alternative possibili saranno due saranno sette saranno ottocento non mi importa ne prendo una per volta faccio un passo avanti e mi chiedo a questo punto ok ho già una soluzione parziale il passo precedente mi ha messo il livello uno io che sono livello due mi chiedo quali sono tutte le opzioni che ho al livello due e risolvo solamente ciò che ho deciso che sia il compito del livello due ad esempio la seconda partita in questo caso e vado avanti così il problema della schedina è un problema molto semplice perché le alternative che ne so della quinta partita non dipendono dalle scelte che ho fatto nelle partite precedenti e quindi quando arriverò al livello cinque la scelta sarà sempre uno due perché lui l'utente ha detto così in alcuni casi invece non è così pensate al sudoku una casellina potete mettere il 3 o non lo potete mettere a seconda di che cosa avete messo prima e cosa fate? provo a metterlo qua poi non va allora lo tolgo lo metto là eccetera provate varie strade possibili e ogni volta che fate una scelta questa ha impatto su quelle che sono le scelte future che potrete fare cioè sulle alternative usando questo linguaggio sulle alternative possibili ai livelli successivi della ricorsione quindi questo è un problema più complicato perché siamo interdipendenza tra i livelli partiamo da quello semplice dopodiché ho un meccanismo allora a livello mentale devo fare lo sforzo di dire immaginiamo una ricorsione con moltissimi livelli ovviamente avendo chiaro bene in testa qual è il significato che diamo al livello mettiamoci a metà di questa ricorsione sono in un certo livello il mio lavoro principale è dato un livello genero quello successivo questa è la parte più difficile il passo generativo del problema dopodiché questa sequenza di livelli non è infinita ma ha un inizio e una fine la fine è il caso terminale quindi cosa deve fare il programma quando ho raggiunto il caso terminale fare niente salvare il risultato stampare il risultato fare dei conti dipende dai casi vedremo tante casistiche che ricadono in questo schema generale e poi c'è anche un inizio qualunque cosa deve avere un inizio di solito avviare il livello 0 è diverso rispetto a passare dal livello I al livello I più 1 devo fare operazioni diverse e quindi tipicamente sarà un codice apposta per avviare la ricorsione dal primo livello ma queste due domande inizio e fine è meglio porsele dopo che ci sia risolto il passo intermedio quando pensiamo al passo intermedio dobbiamo veramente fare un atto di fede a monte e a valle a monte qualcuno di me ha già risolto tutti i livelli da 0 a I meno 1 io ci penso a risolvere il livello I perché so che dopo di me qualcun altro ci penserà a risolvere i livelli da I più 1 in avanti ragioniamo a sandwich siamo solamente in quella fetta lì che è la parte più difficile una volta fatto questo lo facciamo partire lo facciamo fermare anzi è più facile fermare poi dopo partire ok? e quindi mi devo fare una serie di domande ma che adesso poi riprenderemo su esercizi un pochino più più articolati di queste no? quello che vi proporremo è uno schema da usare adesso prima di metterci a scrivere codice poi vedremo che il codice da scrivere è molto poco però è molto intenso no? ogni riga ha un impatto e quindi alla fine lo schema di ricorsione è sempre questo ho una chiamata ricorsiva che ha un certo serie di parametri e poi uno io quello ho chiamato livello possiamo chiamarlo come volete però che sia esplicito che sia chiaro qual è la variabile che si incrementa o si decrementa insomma che però va avanti di uno ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva infatti vedi che la chiamata ricorsiva sotto ha come parametri livello più questo è quello che mi tiene la bussola di dove sono arrivato quanto in profondità sono nella soluzione poi ho il passo ricorsivo che di fatto è normalmente un ciclo in cui si generano le soluzioni parziali è successa una soluzione parziale si chiama ricorsivamente il problema dopodiché spesso c'è un passo di backtracking che dopo che io ho modificato la soluzione per crearne una nuova parziale rimetto le cose a posto il passo indietro di prima ho aggiunto un elemento lo tolgo prima di provare ad aggiungere altri se no mi si incasina tutto è come se voi faceste sudoku senza la gomma hai messo un numero e poi non lo puoi più togliere ne puoi solo aggiungere altri non lo risolvi o sei fortunato che ogni mossa che fai è già quella giusta ma non stai più non stai esplorando le soluzioni stai esplorando in un colpo di fortuna e quindi questo è il passo generativo genero una soluzione la provo e poi rimetto le cose a posto poi ho il passo di terminazione che dice se il problema ha le caratteristiche di essere un problema terminale allora gesticilo qui ho messo tu fa anche il sampling è molto generico dipende da cosa dobbiamo fare stampalo salvalo ricordati il suo valore aggiungilo a una lista di soluzioni possibili questi sono i tre tre barra quattro passi principali generazione ricorsione backtracking e terminazione qui in questo pseudo codice ci sono altre due cose che sono un filtro qua e un blocco edu always prima che senso ha il filtro serve per dire io posso generare molte soluzioni ma magari non le devo provare tutte perché alcuni non sono valdi immaginiamo che il nostro giocatore di totocalcio sia una persona che sa che è più improbabile vincere fuori casa che vincere in casa e allora non vuole giocare delle schedine in cui ci siano più di sei due più di sei vittorie fuori casa la scelta no? è un modo per risparmiare soldi dalle mie schedine che ho generato genererebbero un certo numero di colonne ma io alcune colonne le voglio cancellare perché secondo me sono improbabili allora a questo punto prima di provare ho generato le nuove soluzioni e poi mi chiedo ma verificano anche questa condizione aggiuntiva che mi sono dato? hanno già sei due? se hanno già sei due allora non provo ad ogni giorno un altro due se invece non ce l'hanno vado avanti quindi posso avere dei vincoli che pongo sul problema sulla soluzione che via via che scendono nella ricorsione vado ad applicare questi vincoli e andranno a tagliare un ramo possibile di sviluppo della ricorsione stessa tagliare significa risparmiare una chiamata ma risparmiare una chiamata significa anche risparmiare tutte quelle sotto quindi evitare una chiamata in campo ricorsivo significa tanto in termini di tempo di esecuzione e poi c'è un altro punto qua punto E do always in alcuni casi anche se vedo delle soluzioni parziali mi possono interessare normalmente quando sono qui io ho un problema che è parziale ho una soluzione parziale un problema parziale da risolvere perché se fosse un problema completo terminale andrei a finire me ne accorgo e vado a finire qua però ci sono dei casi in cui tutte le soluzioni parziali magari sono utili un altro giochino che mi viene in mente per esemplificare questo avete presente il gioco delle parole di Razzle in cui hai delle lettere in una scacchiera e devi comporre delle parole allora lì non hai una lunghezza fissa per le parole tu puoi avere parole di una lettera di due di tre di quattro di cinque non solo quando hai una parola di tre quella può essere già una soluzione può essere già una parola valida ma può anche essere allungata quindi tu hai una soluzione che allo stesso tempo sia una soluzione completa perché è già una parola buona sia l'inizio di una soluzione che sarà più lunga e quindi anche una soluzione parziale allora tu devi trattarla contemporaneamente come soluzione parziale e quindi usarla per fare ricorsione e come soluzione completa allora questo blocco qui non mi va bene perché qui c'è un return se la tratta come soluzione completa questo return mi impedisce di fare ricorsione più avanti si parla di caro terminale vuol dire che se è terminale non vado più avanti invece posso avere già una soluzione completa ma non terminale e allora la devo gestire prima ovviamente dalla ricorsione ma senza poi uccidere senza poi uscire dalla ricorsione stessa questo è un schema molto generale vedremo 200 varianti di questo schema perché poi in ogni problema va adattato quella parte c'è non c'è serve non serve a seconda dei casi ok e cosa sono queste soluzioni possono essere delle liste possono essere degli array possono essere dei set possono essere delle mappe che via via li andiamo a costruire più avanti avremo dei grafi dei percorsi che via via andiamo a costruire e smontare montare e smontare li monto mentre scendo una ricorsione li smonto mentre risalgo facendo backtracking però cerchiamo sempre di ragionare sul problema cercando di ricondurlo a queste categorie all'inizio è difficile bisogna avere un po' di pratica perché poi se ce l'ho chiaro in testa il codice si scrive in un attimo se comincio a scrivere il codice senza averlo chiaro in testa è un fallimento quindi quello che vi chiederemo anche nel laboratorio le prime volte è scrivilo davvero prendete un foglio di carta e prova a ragionare chi è il livello come fare a ragionare un livello quello più uno quindi level come lo genero in cosa consiste il backtracking eccetera eccetera quali sono le strutture dati che usiamo per memorizzare le soluzioni allora proviamo a applicare tutto questo al nostro caso del totocalcio allora io per non perdere tempo a fare cose banali ho già preparato delle strutture dati per gestire i dati quindi ho nel progetto che c'è già su github trovate una enum che si chiama risultato che contiene tre costanti 1,2,x e ho definito una classe schedina che sarebbe la colonna del risultato che altro non è che una lista di risultati di lunghezza n n è un parametro vedendo lo codice noi abbiamo risultato che è una classe di tipo numerazione una classe che serve per aggruppare un enum e un insieme di costanti con dei metodi per poterle gestire li ho chiamati 1,2,x scritto così questi sono costanti anziché chiamarle 1,2,3 o 0,1,2 gli ho dato dei nomi più espliciti e la schedina e la schedina la schedina altro non è che una lista di risultati quindi è un attributo che ho chiamato colonna che è una lista di risultati quindi queste sono le soluzioni che abbiamo visto nel progetto questa colonna qui è un oggetto di tipo schedina il cui attributo colonna è una lista di tre risultati il primo risultato 1 il secondo risultato 1 e il terzo risultato x questa seconda colonna è un'altra schedina la terza colonna è un'altra schedina eccetera l'ho chiamato forse male l'avrei potuto chiamarla colonna questa classe ma ormai è così questa è la soluzione quindi la soluzione vera del nostro problema sarà una lista di schedine ciascuna schedina è una colonna cioè una lista di risultati risultato singolo mentre invece il pronostico la previsione è un insieme di valori un insieme di risultati possibili quindi il mio quello che ho chiamato pronostico cioè l'input ciò che l'utente sceglie ciò che l'utente seleziona è anche lì una lista una colonna fatta non di risultati ma di previsioni dove la previsione può essere un risultato singolo doppio o triplo ok? quindi sono diverse queste due classi questa classe di sotto è una colonna con dei valori fissi quella di sopra è una colonna con dei valori che su ciascuna riga possono essere singoli doppio o triplo e come faccio? questi valori singoli o doppio o triplo sono gestiti da questa classe previsione qua che altro non è che un insieme di valori ok? per vederle all'opera se vado a prendere il programma di test di schedina io posso pensare di creare una nuova schedina il parametro è il numero di righe che avrà e a questa schedina aggiungo dei risultati risultato punto 1 questa è la sintassi per prendere una costante 1 dalle numerazioni che si chiama risultato quindi aggiungo 1 1 1 2 2 2 x x 1 1 1 2 in totale ne ho 13 e quindi poi la posso stampare quindi viene forna cosa di questo genere adesso 2 string gli dà un'apparenza più facile da leggere che non stampare leggerlo in colonna questa è la singola schedina ok? 1 e si crea semplicemente aggiungendo mettendo dentro i vari risultati quello della prima seconda terza quarta riga mentre invece la classe pronostico anche lei ha di fatto una lista in cui posso aggiungere via via delle previsioni non dei risultati direttamente la previsione che cos'è? la previsione è un insieme di due risultati tre risultati un risultato solo dentro ho dei set quindi di questo pronostico la prima riga avrà una previsione di due risultati possibili che contiene due risultati possibili la seconda riga avrà un'altra previsione 1x che contiene due risultati possibili e quindi se eseguisti questo programma di prova verrebbe fuori che questo pronostico è 2-1 per la prima riga x1 x2-1 x2-1 quindi se noi volessimo fare espandere questo pronostico nella lista delle schedine corrispondenti quante ne avrei ebbene avrò 2x2x2x2 16 ho 16 espansioni possibili di questa schedina se non applico altri vincoli allora come faccio a generare questa espansione e qui comincia il lavoro creiamo una classe che fai? che ti vuole? allora apri nuova classe espandi e qui dentro inseriamo il metodo di espansione allora rispondiamo alle domande che ci siamo fatti prima l'abbiamo già detto il livello della ricorsione è uguale alla singola partita quindi se ho livello uguale a 0 significa che ho una schedina con 0 risultati livello uguale a 1 schedina con 1 risultato e così via eccetera eccetera è vero che tutti ma la schedina è da 13 è sempre da 13 sì quella finita la soluzione è completa da 13 le soluzioni parziali che costruiamo un pezzo per volta saranno parziali quindi avranno solamente il primo i primi due i primi tre eccetera risultati quindi noi abbiamo la nostra procedura espandi che riceverà in ingresso che cosa un problema da risolvere già parzialmente risolto quindi il problema da risolvere che cos'è è il pronostico la classe pronostico questa classe qui che ci dice che cosa mi ha dato l'utente P poi riceverà una schedina già parzialmente compilata per la soluzione parziale a cui sono arrivato finora a cui i livelli precedenti sono già arrivati parziale e poi ovviamente il livello a cui sono arrivato quindi questo mi sta dicendo guarda c'è questo problema da risolvere tu sei a livello 5 quindi ti passo una schedina che contiene già 4 previsioni se sono a livello 5 devo produrre la quinta previsione ok quindi qui ci si incasina sempre col più meno 1 un valore in più un valore in meno allora chiariamoci diciamo che se parziale l'oggetto parziale contiene già livello meno 1 valori e quindi questa procedura io devo aggiungere o determinare il valore diciamo schedina parziale di livello se il livello è 3 sarà visto che parziale poi alla fine sono liste no? gli elementi nella lista contiamo partita 0 se il livello è 3 avrò parziale di 0 parziale di 1 parziale di 2 che sono 3 no? allora ho sbagliato così sì la lista parziale contiene già livello valori che sono messi nelle posizioni da 0 a livello meno 1 quindi se il livello è uguale a 3 io ho già una schedina parziale con 3 soluzioni che sono nella posizione 0 1 2 io devo mettere il quarto valore che è nella posizione 3 questo è un modo di ragionare poter ragionare sempre col valore con il livello meno 1 rispetto a questo cambierebbero un po' le cose ma me la trovo più comoda sapendo che il livello mi identifica anche qual è la casella che devo riempire sulla base del pronostico della previsione nel pronostico corrispondente quindi a livello 0 riempirò la casella 0 prendendo la previsione 0 a livello 1 riempirò a livello 1 prendendo espandendo le previsioni a livello 1 e così via cosa mi serve per generare le soluzioni possibili a livello 3 e mi servono i pronostici della riga la quarta riga che è quella in la posizione 3 ho già a livello valori e determino quella successiva quindi determino devo determinare parziale di livello che sarebbe cioè la livello più unesima riga è normale starci mezz'ora e uscire con mal di testa su questo passaggio qua ho capito questo e non ho detto che lo si capisca al primo giro è tutto in discesa più in discesa quindi mi danno una soluzione parziale mi hanno detto guarda prima qualcuno ha già fatto delle cose tu per favore mettimi a posto la posizione 5 ok metto a posto la posizione 5 quindi vado a vedere quali sono le previsioni che devo considerare P è il pronostico il pronostico contiene tutte le righe io vado a prendere la riga su cui devo lavorare io che è quella indicata dal mio livello alla prima chiamata di questa cosa qua livello uguale a 0 e quindi c'è scritto previsione uguale P.get di 0 ottimo la prima riga il primo elemento della lista ma adesso non siamo nella prima invocazione ci immaginiamo di essere in un'invocazione successiva all'interno già più avanti e quindi questa previsione che cos'è? è un insieme ricordiamoci che la classe previsione non è gestisce un insieme un set di valori quindi quali sono i tentativi che posso fare a questo livello? sono tutti i valori presenti in questo set quindi io posso provare i vari tentativi le varie alternative semplicemente iterando tra i risultati che ottengo dalla previsione get valori mi dà il set questo è un set di risultati io itero su questo set estreno il risultato per volta quindi se quella riga lì c'è scritto 1x questo cicloforo verrà eseguito due volte la prima volta il risultato è uguale 1 e la seconda volta il risultato è uguale x quello che dicevamo a un determinato livello capisco quali sono i prossimi passi che posso fare che il problema mi chiede di fare li ho estratti dal pronostico il pronostico sono andato a vedere la quinta riga la quinta riga mi sono andato a chiedere quali sono i risultati che il giocatore aveva previsto come risultati possibili per la quinta partita 1x ok proviamo a mettere 1 proviamo a mettere x quindi di fatto a questo punto provo ad aggiungere r alla soluzione quindi ho una soluzione parziale e faccio una soluzione parziale con un pezzo in più quindi la mia soluzione parziale posso aggiungere c'è un metodo put su questo? no metto un add va bene l'elemento r quindi avevo una soluzione parziale che aveva solamente 4 elementi ne aggiungo un quinto e ho finito ciò che devo fare al mio livello perché lo scopo del mio livello è raggiungere un elemento in questa posizione scusate qua un parziale di livelli ne avevo già meno 1 e ne ho aggiunto 1 questo è l'add della lista normale non è un metodo strano e quindi posso andare avanti e fare ricorsione dicendo adesso puoi espandere da qui in avanti lo stesso problema la stessa schedina parziale livello più 1 io ho aggiunto un 1 da qui in poi non è più affare mio qualcun altro provi ad aggiungere sotto ovviamente dopo che ho aggiunto devo togliere e quindi dopo che ho aggiunto un elemento prima di aggiungere quello successivo ho aggiunto 1 poi aggiungo x però x non lo devo aggiungere dopo l'1 che avevo aggiunto prima devo togliere l'1 e poi mettere l'x l'idea è che quando io provo qui c'è scritto prova le alternative dopo che ho provato una cosa devo lasciare le cose esattamente come le avevo trovate come in bagno faccio tutte le prove che voglio tutti i miei lavori che devo fare e poi alla fine quando arrivo la graffa chiusa la soluzione parziale deve essere uguale come la prima questa è la promessa che faccio alle procedure che vengono prima e dopo di me questo è il cuore ovviamente non vado avanti all'infinito così prima o poi questa ricostruzione si dovrà fermare e quando è che si ferma? beh si fermerà quando il livello è tale per cui il pronostico è stato esaurito io ad ogni livello vado a prendere una diversa casella del pronostico P quindi prenderò P di 0 P di 1 P di 2 P di 3 ma meno che scende una ricostruzione ma a un certo punto il pronostico finisce quindi se mi metto davanti a tutto no però prima di questo se il pronostico ha 13 colonne cioè 13 righe io posso fare da P di 0 P punto get 0 a P punto get 12 13 non va bene non voglio prendere una bella eccezione qua quindi controllo prima se per caso il livello fosse già arrivato alla fine del vettore P io avevo messo un get n quindi se n sono 13 e il mio livello è 13 non va bene perché se ho 13 posizioni vanno da 0 a 12 quindi la dodicesima è già stata messa scusate la tredicesima cioè in posizione 12 è già stata messa quella in posizione 13 che sarebbe la quattordicesima non va fatta allora in questo caso vuol dire che la mia soluzione parziale è in realtà già una soluzione totale sono arrivato in fondo adesso non abbiamo tanto tempo per sapere cosa farcene stampiamola e basta scusate il return e non andare avanti potrebbe mettere un else ma non avevo voglia di fare un altro paio di graffe e non devo più andare avanti ad aggiungere elementi a questa schedina allora questo metodo qua è il metodo che permette di andare avanti nel passo generale che è qua e il passo terminale che è qua al primo passo cosa succede? al primo passo c'è bisogno di qualcuno che la chiami passandogli un pronostico una schedina vuota creata ma vuota e un livello uguale a 0 se non gli passo 0 e non gli passo una schedina con 0 elementi questa cosa qua non funziona allora è sempre meglio non fidarsi del main o del chiamante che mi chiami la prima che mi chiami correttamente l'invocazione della prima chiamata ricorsiva di sotto si mette sempre una funzioncina di comodo davanti quindi questa qua che ho scritto public la faccio diventare privata dicendo attenzione che la ricorsione è difficile me la gestisco io e come public chiamo un expandi pronostico che riceve solamente il pronostico come parametro e questa classe qua chiarirà una nuova schedina con dimensione massima pari alla dimensione massima del pronostico e a questo punto chiamerà la funzione espandi quella privata passando di pronostico la soluzione parziale che ho appena creato è zero come livello quindi la funzione ricorsiva che ha bisogno di tutti i suoi bei parametrini per poter lavorare i livelli viene chiamata da una funzione mia che ha un'interfaccia esterna più semplice chi deve chiamare questa funzione non deve capire nulla il problema di risolvere è questo allora vediamo se funziona abbiamo scritto sì e no 10 righe di codice sono tanti commenti tante righe bianche alla fine sono 40 come dicevo molto dense allora andiamo a prendere il test pronostico in cui stampava questo dopo che ho stampato il pronostico proviamo a farglielo risolvere quindi diciamo istanziamo una classe espandi e chiediamo a questa classe di espandere il pronostico p e vediamo cosa fa scommetto che da un'eccezione però magari no che peccato ha funzionato sarebbe stato più interessante vederla debaggare allora questo era il pronostico e queste sono le stampe adesso è brutto da vedere perché tu chiami un metodo e lui ti stampa roba sullo schermo sulla console in realtà questo metodo dovrebbe restituire una lista di soluzioni lo facciamo con calma questa è la parte facile e poi me ne stampo io non le faccio stampare a lui dentro la ricorsione però queste sono soluzioni 2 vedete che lui lavora partendo dal fondo la ricorsione è così faccio il primo tentativo tra quelli possibili poi ricorsivamente faccio il primo tra quelli possibili il primo tra quelli possibili il primo tra quelli possibili in fondo il primo tra quelli possibili solo quando arrivo al caso terminale faccio il secondo tra quelli possibili dell'ultimo livello poi eventualmente il terzo tra quelli possibili dell'ultimo livello dopo che ho provato tutti quelli dell'ultimo livello torno al penultimo livello e provo la possibilità successiva del penultimo livello. Su questa proverò tutti quelli possibili dell'ultimo e così via. Quindi vedete che i primi numeri cambiano più lentamente, gli ultimi numeri cambiano più rapidamente perché lavora sull'ultimo numero e poi solo quando esaluti tutte le possibilità sull'ultimo numero lo cambia sul penultimo, un po' come il contochilometri della macchina, quando è arrivato a zero la cifra dell'unità scatta quella delle decine. E questo è un contochilometri un po' strano. Se vi può aiutare, non so se vi aiuta o se la complica, vi faccio solo vedere cosa succede dentro la funzione. Cioè se noi lanciamo questa cosa in debug, cosa succede? quando chiamo la funzione espandi pronostico ha chiamato espandi e sono qua, livello uguale a zero. vado avanti, mi dà la previsione che è un array che contiene 2.1, cioè il primo livello e estrago due possibili risultati. lo metto nella soluzione parziale. La parziale adesso non conteneva nulla, infatti mi dà un'eccezione quando cerco di stamparlo, ma dopo che l'ho stampato mi dice che contiene la soluzione 2. la previsione era 2.1 e ho aggiunto il 2, che è il primo elemento, alla soluzione parziale. Poi chiamo espandi, adesso entro dentro la chiamata, guardate qua, il main ha chiamato espandi pronostico, che ha chiamato espandi, che ha chiamato di nuovo espandi. siamo nel secondo espandi con livello 1, non più 0. Andiamo avanti. Le soluzioni possibili qua sono 1x, questa variabile è diversa da prima. Quella di prima era 2.1, quella sotto è 1x. la provo ad aggiungere e ricorsivamente faccio un'altra chiamata ancora e qui si aggiungono espandi, chi chiama espandi, chi chiama espandi. Qui sono a livello 2, cioè la terza chiamata ricorsiva. E così via. Se ci aiuta a visualizzare, a cercare di visualizzare cosa sta succedendo, abbiamo tante chiamate che si impilano una sull'altra e l'unica che fa realmente del lavoro è l'ultima. Che stampa il valore. Tutte quelle prima fanno solamente, mescolano le carte. Ah, questi sono i valori, prova questo, 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 quest'altro. Prova, metti, togli. Ma il lavoro vero lo fa solamente l'ultima chiamata. Che però si trova già, grazie al rimescolamento delle carte, delle procedure precedenti, dei livelli precedenti, si trova già bella che pronta la soluzione fatta. Che abbiamo costruito un pezzo per volta senza neanche pensare. Abbiamo semplicemente valutato, provato, tutte le varie alternative. Ok? Allora, passeremo due settimane a fare esercizi di vario tipo sempre su questa tematica qua, per cercare di digerirla un po' bene. Allora, grazie. Allora, grazie. Allora, grazie. Grazie a tutti.